La settimana scorsa ho pubblicato un TikTok che iniziava così. Ho preso una munta, eccola qua, e ho ricevuto questo commento. E quindi, che cosa se ne fa uno di questa informazione? Che cosa se ne fa uno di questa informazione? Molto bene, per il verbo pronominale farsene. Che cosa me ne faccio io? Che cosa te ne fai tu? Quale soggetto è uno, pronome indefinito, una persona. Non mi riferisco a una persona in particolare. Uno. Che cosa se ne fa uno di questa informazione? Niente. Questa informazione di per sé non ha nessuna importanza. Nel contesto, però, della grande casa di un italiano vero, la casa di chi ama la lingua italiana, di chi vuole vivere in italiano, questa informazione è un'occasione di apprendimento della nostra cara, bella, meravigliosa, unica lingua italiana. Un italiano vero è una grande casa, una grande casa che ha tante stanze. C'è la stanza di TikTok, c'è la stanza di YouTube, un salone grandissimo, c'è la stanza di Facebook, c'è la stanza di Telegram, c'è la stanza di Twitter, c'è la stanza di Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Al sito unitalianovero.it puoi trovare gli indirizzi di tutte le stanze della grande casa di UIV. I contenuti di un italiano vero sono rivolti principalmente a chi non è di madrelingua italiana, a chi sta studiando la lingua italiana, ma qua nessuno è escluso, tutti sono benvenuti, qui nessuno è straniero, neanche gli italiani. Grazie a tutti.